Ciao a tutti, spero siate in forma. Oggi ci rincontriamo per un nuovo video, ma invece di parlare dei soliti top tecnologici ed innovativi, ho deciso di farvi conoscere un programma rivoluzionario. A chi non è mai capitato di perdere tutti i dati che aveva su un pc o su un telefono? Possono essere dati di lavoro, studio, ricordi di infanzia o di una vecchia vacanza. Qualsiasi cosa sia, causa un disagio e un forte dispiacere. Fortunatamente la soluzione a tutti questi problemi esiste e il suo nome è Recoverit. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a parlarne, ma prima ti ricordo che troverai i link utili in descrizione. Ti chiedo inoltre di mettere mi piace e di iscriverti al canale, ricordando di attivare la campanella così da non perdere nessuno dei prossimi fantastici video. Andiamo amici, scopriamo come recuperare tutti i dati perduti. Il recupero del file originale. Grazie a Recoverit non avrai più timore a perdere dati importanti per te. Grazie alla sua funzionalità potrai recuperare dati dall'hard disk, chiavette USB, videocamere, SD, microSD, fotocamere e tanti altri dispositivi con un semplice clic. Recoverit infatti offre un avanzato algoritmo di recupero dati che consente di estrapolare tutti i possibili file ancora presenti in un qualsiasi dispositivo di memoria. Quando si cancella un file da un disco o dispositivo di memoria, questo diventa solo invisibile e rimane ancora per un po' presente nella memoria. Grazie alla tecnologia Data Analyzer Engine di Recoverit, tutti questi file possono essere nuovamente recuperati e nelle situazioni più complesse l'algoritmo Deep Scan, scansione approfondita, riesce a ricostruire la struttura dei dati e offre un tasso di recupero dati che supera il 96%. Sono pochi i software di questo settore con un tasso di recupero così alto. Grazie a questo quindi potrai recuperare qualsiasi tipo di file, documenti, doc, xls, ppt, html, eps e tanti altri, foto, jpg, png, psd, mrw e raw, video, audio, email e altri file del tipo zip, sit e rar. In ultima analisi, Recoverit può essere utilizzato sia su Windows che su Mac, caratteristica che lo rende competitivo e valido per ogni tipo di utente. Per queste ragioni, ad oggi, tantissime aziende supportano e utilizzano Recoverit, con all'attivo più di un milione di utenti, sia privati che non. E se diventa obsoleto, non avere paura, avrai sempre a disposizione gratuitamente aggiornimenti e tante novità. Ecco amici, per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così dovesse essere, non esitate a mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Spero davvero che Recoverit vi sia piaciuto e risolto tanti problemi a cui non dovrete più pensare. Ci tengo a sapere la vostra, quindi lasciate un commento sotto al video e tenetemi aggiornato su tutte le scelte future che prenderete. Noi ci vediamo per un prossimo video. Sempre pronta ad aggiornarvi. A presto. Atec. Atec.